In alcune zone della Puglia, non tutte per fortuna, il servizio di emergenza 118 sembra controllato dalle agenzie di onoranze funebri. La denuncia shock arriva dal presidente regionale di Asso Imprese che parla di un settore al cui interno ci sono persone senza scrupoli che non fanno onore all'intera categoria. Soggetti, spiega Franco Lotito nella sua azienda di Corato, che pur essendo dipendenti delle agenzie svolgono servizio come volontari sulle ambulanze spesso agiscono come avvoltoi in caso di accertamento di morte da parte dei medici. Lo spunto dopo la segnalazione di un caso che a suo dire merita un serio approfondimento. Chiamato il servizio del 118 è arrivato sul posto, hanno constatato la morte di questa persona. Nello stesso tempo c'era anche un altro servizio di 118, ne erano due ambulanze di cui un operatore di questo si è presentato lasciando anche il bigliettino delle imprese di Pompefon. Quando sono arrivato sul posto la famiglia mi diceva di questo tipo di servizio come mai succedono queste situazioni così poco dignitose perché uno che tende a salvare la vita e si presenta quello invece che lo dovrebbe portare via non possono essere collegate, non possono stare insieme. Non bastavano le inchieste sul fenomeno del caro estinto all'interno degli ospedali. Questa secondo lo titolo è una nuova tegola per la categoria fatta anche di persone per bene che lavorano con onestà. Tutti quelli che lavorano o sono dipendenti o collaborano con il servizio di onorenza e fondi non possono essere anche nel servizio di così sensibili al 118.